Rosso e sotto il rosso. Alcuni li mangiano, però io non li mangio perché sono pericolosissimi. Inizio è quello? Fatto? Sì, fatto. Questo si chiama mannita muscaria. Ok. E questa è buona. Sembra uguale a quelle bianche, solo che c'hanno... Il colore è come il color vinaccia e ci sono le verruche che sono sul rosso. Vedi, sono gialli e sotto c'è sempre la polva, sarebbe questa qui. Questo è uno degli indici che è un ovulo, non si distingue. E sopra c'è un giallo-arancione spettacolare, visibilissimo. Allora, vedi come stanno così belli sul soffice, sulla terra soffice, e sono usciti qua. Stanotte e stamattina sono cresciuti, vedi, sono ancora stanno per uscire. Vai. E sono uno spettacolo, bravo, aspetta che questo si toglie. Però sono belli puliti, poi. Sì. Lo tolgo con tutto là. Bello, contento, Alfonso. Grazie.